Alla festa del patrono i genitori di Anna non presero parte, detestavano quelle manifestazioni popolari, ma non Antonio volle assolutamente accendere i lumi a olio sulle finestre, anche se la processione passava di lontano. Nella sera, smossi dal lieve fiato del vento, i lumi tremavano. Anche alle case dei coloni un lume era acceso. La vecchia, seduta sull'aia, sbocconcellava il pane dolce che era d'uso mangiare in quel giorno. Anna era andata con Valentina e Mario a vedere la fiera. Ancora vagolava per il corso e per la piazza l'odore dell'incenso bruciato appresso al santo che tutto di legno rosso ed oro si stagliava nel cielo ucciduo e traballando sulle spalle dei portatori mandava bagliori dagli occhi di vetro. Era rientrato nella chiesa dove i fiori ammassati sull'altare spandevano sentore di funerale. La gente di Anzi, contrita, passava in festa sulle selci ancora imperlate di cera. Lamentosi e modulati sudivano i richiami dei venditori di noccioline e di banane, lenti come una ninna nanna araba. Dietro l'abside della chiesa esplodevano i fuochi d'artificio. Valentina e Anna agli scoppi si tappavano gli orecchi con le dita, avevano bevuto certo vino pastoso, avevano mangiato i croccanti, i sorbetti. Ammollite dalla festa si lasciavano urtare dai bambini che correvano suonando delle trombe di cartapesta senza ribellarsi. Mario le teneva entrambe pel braccio, Valentina gli si appoggiava un po' come se il languore dal vino. Anna godeva di sentirsi attorno alla folla, una grande famiglia salutava, sorrideva a tutti. Sulla piazza nel recinto dell'osteria numerose copie di paesani danzavano. I ballerini sedevano sulle panche, gli uomini di qua, le donne di là. Una ragazza rossa andava attorno coi bicchieri del vino. Poi, quando la musica riattaccava, si metteva da parte. S'alzavano allora i giovani, s'assestavano i calzoni alla cintola e si avvicinavano alle ragazze che mute attendevano con le mani in grembo e subito, cedendo all'invito, si mettevano a ballare. Lenta la danza e cadenzata da quegli rantoli della fisarmonica. Se il compagno saltava, anche la ragazza saltava senza però mutare la ferma espressione del volto o muovere la testa. Il ballo apparteneva alle gambe soltanto e agli zocoli di legno scalpitanti. I lunghi orecchini saltellavano ai lati del viso austero. La musica finiva di scatto. Di scatto i due si separavano in silenzio. Neppure una parola si dicevano. Forse con quei visi, la notte, le spose si staccavano dai loro uomini per dormire. Riprendevano il loro posto sulle panche di là senza neanche scambiarsi un sorriso, aspettando dalle mani del suonatore il momento di alzarsi di nuovo e ricominciare. Nelle gambe di Anna e Valentina si agitava una gran voglia di ballare. Ballare fino ad essere esauste, cadere per terra e dormire. E però non ardivano di mescolarsi ai contadini. Forse quelli avrebbero smesso per rispetto. Sopra la cupola della chiesa i bengali rossi dilaniavano l'oscurità. Luminose meteore irraggiavano, ricadevano molli e sanientavano nell'ombra. Mario condusse le ragazze alla giostra. Tre cavalli. Anna si sedette sul cavallo come un amazzone. Intrepida, si attaccava alla criniera e guardava i feroci occhi dell'animale. Le froge dilatate, dipinte di vermiglio, incitava. Andiamo! Andiamo! Tutto ciò le dava una gioia infantile, irrefrenabile. Sull'organino della giostra, un omino di legno imbauta, batteva il tempo ad una flebile antica musichetta. Anna scoppiò di gioia all'udirla. Valentina la guardava. È pazza! Dice bene, sua madre. Posa! Anche lei si sentiva astordita, ma per quella vicinanza di Mario, quel braccio di lui contro il suo. Però Mario cavalcava vicino ad Anna e lei doveva dar loro le spalle. Il carosello si mosse e poco dopo la testa di Anna prese a girare a vortice, come se le girassero gli occhi nelle orbite. Attorno a torno, alla giostra, un fito cerchio di gente guardava gli altri divertirsi. Anna sentiva tutti gli sguardi su di lei e il tondo sguardo di Mario non abbandonarla un momento. Ha paura che cada. Ha capito che sono ubriaca. Che vergogna! Che vergogna! Ma non riusciva a vergognarsi veramente. Anzi, sorrideva. Un sorriso meccanico. Un sorriso meccanico come l'alzarsi e l'abbassarsi del braccio dell'ovino di legno in bauta che batteva il tempo. Anche lo sguardo di Valentina sentiva fisso su di lei. Tutti, tutti la guardavano. La musichetta le ronzava negli orecchi, insopportabile, come il canto della nonna alla finestra. Eppure si divertiva tanto. Mai si era divertita tanto così. Un anno, tutto un anno deve trascorrere perché ritorni questa festa. Chi dice che la città è bella? Mario la guardava serio. Domani bisogna di nuovo tornare a studiare. E l'ansia per lo studio, la tesi, tutto ciò le appariva ingiustificato e lievemente ridicolo, come quando si vede gente ballare dietro una vetrata senza udire la musica. Scesero e a stento si fecero largo tra la folla che si accalcava sulla piazza, attenta alla tombola che si estraeva dal balcone della casa del fascio. La testa, Anna mormorava, la testa. Qui, qui, disse Mario, qui c'è più aria. Discosti dal baccano si fermarono a guardare la luminaria accesa ai balconi. S'appoggiarono a un muretto. Sotto di loro era lo strapiombo, detto del ladro, per un malvivente che vi si era ucciso ai primi anni del secolo e del quale ancora si narrava la storia. Valentina scrutava nel fondo cupo d'ombra. Precipitare laggiù, restare morti e freddi come Millie. Perché non riusciva a liberarsi dal fantasma della ragazza. Su di loro scendeva la lieve amarezza del divertimento goduto. Fu Anna la prima a riprendersi. Disse, è tardi, adesso bisogna andare a casa. Non guardava Mario, ma si sentiva fissata da lui. Dal principio della sera la fissava così. Adesso, dopo aver accompagnato Valentina, avrebbero dovuto tornare insieme soli. Per evitare questo, propose all'amica, vuoi venire a dormire da me. Ma l'altra, dopo aver riflettuto un poco, rifiutò. No, la mamma starebbe in pena e i fratelli s'accanirebbero contro di lei. No, non posso. Per un vicolo, scesere fino alla casa di Valentina. Dalle osterie aperte venivano voci di uomini che giocavano a carte e per le strade sudivano canti di gente che aveva bevuto troppo. La festa adesso disgustava un po', come gli avanzi di un copioso pasto. Nell'aria, per gli scopi dei mortaretti, era rimasto odore di polvere bruciata. Anna e Mario riattraversarono il paese in silenzio, desiderosi di aria pura. Affrettarono il passo, passarono l'arco grigio che metteva sulla strada della campagna. Qui Anna s'arrestò e disse, com'è bello il silenzio. Mario rimaneva muto, ma lei sentiva lo sguardo del ragazzo avvolgerle le spalle e soffermarsi sul nodo dei capelli che la usava portare basso sulla nuca. Messa a disagio da quell'insistenza, ogni poco doveva alzare gli occhi verso di lui e sorridergli. Oltrepassarono un fanale, un grande cerchio di luce gialla e poi, fino al prossimo, la strada ricadde nell'oscurità. La notte era senza luna, ma le stelle mettevano brividi in cielo. La via Lattea si gettava come una sciarpa attraverso il lucido brulichio. Dinanzi al cancello di Anna si fermarono e Della restò appoggiata al pilastro sul quale pendeva la campanina, guardando suo compagno di sotto in su. Era molto difficile lasciarsi dicendo addio, come sempre, ed era altrettanto sciocco agire in modo diverso, perché nulla era cambiato proprio nulla. Il cane, latrando, venne verso di loro, mise il muso tra le sbarre, saccocolò e tacque. Anna, per spezzare quel silenzio che lo sessionava, disse, quante stelle, adesso mi affaccerò per guardarle. Quale finestra? Quella? E il giovane l'indicò. Sì, quella. Anche io mi metterò alla mia. Anna rise. Ma non ci vedremo, è lontano. Vi sono di mezzo i campi, gli alberi. Poi t'acqua imbarazzata. Non importa, disse Mario. Poi soggiunse. Io ti vedrò, Anna. Sulla strada passava un carro, dondolava tra le ruote il lume giallastro e gli zoccoli battevano sordamente sulla polvere. Anna e Mario restarono attenti a quel rumore, a quella luce. Quando il carro si fu allontanato, il ragazzo disse appena addio e lento si incamminò verso la sua casa. Nei giorni che seguirono, Anna evitò di trovarsi con Mario. Studiava tutto il giorno. A Roma avrebbe dovuto soltanto far copiare e rilegare la tesi, prepararsi per discuterla. È tutto fatto, grazie a Dio. E vada come vada. Era finito. Dalla finestra della camera seguiva Mario, che andava per i campi. Vedeva un puntolino bianco. Era lui, in maniche di camicia, che parlava ai coloni, al nuovo castaldo, che andava sul muletto fino agli angoli più remoti del podere. Forse non era amore il suo. Eppure una mite dolcezza si diffondeva in lei, allorché guardando quel puntolino bianco si diceva è lui che lavora. Mario non la cercava e lei per questo pensava un po' delusa che quegli sguardi e quel suo tono di voce la sera della festa al cancello non fossero proposte d'amore. Forse soltanto contentezza di sapere che lei c'era, esisteva. Lo vide una settimana dopo uscendo con Valentina a passeggiare nella tenuta. Si spinsero fino alla rete di ferro che separava il giardino degli Aponte da un campo dei Bortone. Il grano era già tagliato da tempo. La terra pariva devastata, arsa di stoppie. Lì, presso, nella focata pianura, quanti pagliai? Dieci? Venti? E altri innalzavano i contadini più in là. Presso il fossato Valentina chiese qui? Anna non replicò e sedettero. Nel giardino Mario non c'era ma si udiva la sua voce. Valentina apprese a parlare forte e a ridere per attirarlo. Poco dopo infatti venne e si sedette, le gambe in croce e di là dalla rete. Calmo e soddisfatto masticava tra i denti forti un lungo filo d'erba. Ho fatto già molto, diceva, ma molto ancora ho da fare. Il bestiame, il pollaio, bisogna riportare tutto come prima. La casa è uno squallore. E il giardino? Beh, un po' per volta anche il giardino. Bruscamente chiese, mi vorrebbe aiutare a scegliere, sì, insomma, a sistemare il giardino, Anna? Valentina guardò prima l'uno e poi l'altra, insospettita. Piena di impaccio, Anna rispose, volentieri, ma tra poco parto. Già, parte, fece Mario. Sarà per il suo ritorno. Ecco. Un silenzio penoso. Placida scorreva l'acqua nel fossato, trascinando foglie e sterpi. I pagliai gettavano macchie d'ombra sui campi. Le galline passavano impettite. Valentina taceva. Se avesse aperto bocca sarebbe stato per piangere. O si sarebbe volentieri gettata su Anna e l'avrebbe colpita in pieno viso. Le avrebbe fatto mettere la bocca sul prato. La rete di ferro metteva ombre sul viso calmo di Mario che seguitava a masticare il filo d'erba. Come se nulla fosse, pensava intanto Valentina. E così mi hanno giocata. Salzò di scatto, fece è tardi e prese Anna per il braccio. Niente affatto sorpreso e gli disse è bene e salutate le ragazze con la mano. S'allontanò zufolando. Nonna Antonia era alla finestra. Vide Anna arrivare con l'amica e la chiamò. Presto, presto, diceva con voce soffocata. La nipote non l'aveva vista in tutto il giorno. Aveva saputo che era andata al casolare del colono Mattia, il quale aveva la moglie in parto, portando con sé soltanto un pezzo di pane e un pomodoro. Senti Anna, le disse nel vederla, neppure il pane posso più mangiare. Tua madre me l'ha avvelenato. Ho avuto i dolori di pancia l'intera giornata. Non l'avevo mangiato tutto per fortuna. E adesso sai che fa? Ho visto entrare da lei la dolorata, quella che fa le carte e le fatture. Adesso mi fa buttare addosso la moria. Vedrai che ci riesce. Da ieri mi batte una palpebra. È segno di disgrazia. Infatti tuo padre mi aspettava nell'atrio. Voleva la firma. Che firma? Ho chiesto. Quella che avete promesso. Liberare le cartelle per quell'affare di Milano. Torneranno raddoppiate, almeno. Non mi ricordo. Non ho promesso nulla, non faccio firme. Ho detto. Sai, è perché tutto va in malore, sono senza soldi. Che affare di Milano? Servono per le orge, per i vestiti di tua madre. Donna Antonio Bortone non firmerà. La casa si è riempita di strilli. Non hai inteso? No. Ero fuori con Valentina. Bene. E sai che mi ha risposto il sangue mio, il frutto delle mie viscere? Si inghiozzava accorata. Mi ha risposto che mi farà rinchiudere in manicomio. No, impossibile, nonna. Sì, sì. Tua madre ci riuscirà. Dicono che rubo, che rubo in cucina, fiottava adesso. Un po' di zucchero ho preso. Zucchero per te, se viene tempo di carestia. Adesso che c'è stata la guerra e come accade nel 18 non se ne dovesse trovare più. E vuole farmi rinchiudere. Dice che il tribunale mi toglierà la firma perché sono pazza. Povera Antonia, pazza. Seguitava a fiottare e Anna non sapeva che dirle. A un tratto la vecchia salzò in piedi. Secca e ossuta che pareva la morte vestita. Batte una mano sul davanzale e disse, e domani vedrai che accadrà. A sera Anna parlò a lungo col padre. Ma dovete dargli ragione. Per adesso poteva fare a meno della firma. Domani sarebbe partito in viaggio. Milano, Biella. Ma al ritorno sarebbe passato per Bari e avrebbe messo la cosa nelle mani dell'avvocato. Malata di persecuzione, cleptomane, irresponsabile. Ce n'era quanto bastava. No, no, che manicomio. L'aveva detta per spaventarla. Il domani, un giorno grigio, pesante, don Alfonso partì. La nonna passò la mattinata in giro e rientrò sorridente. A tutti quel tempo minaccioso dava il malumore. I lampi squarciavano il nero tumultuoso del cielo. Verso sera dai campi venne un gruppo di coloni seguiti dalle mogli con i figli per mano. Giunti che furono sull'aia, uno di loro domandò di parlare al padrone. Non c'è, rispose la serva. È partito. Ah, è partito, ripete Nicola, che aveva parlato per tutti. Poi, passato uno sguardo con gli altri, chiese. La padrona giovane, allora? Poco dopo, donna Matilde scese con la figlia. Si arrestò maravigliata dagli sguardi cupi e fermi dei contadini. Strinse a sé la vestaglia come per difendersi. Che c'è? Domandò ansiosamente. Quelli si guardavano in silenzio aspettando che qualcuno si decidesse a parlare. Poi a una gomitata della moglie Nicola si decise. Disse che erano venuti a sapere delle intenzioni dei padroni. Che don Alfonso vendeva il terreno a gente forestiera e infatti era partito e che da un giorno all'altro li avrebbe messi tutti fuori, senza badare ai patti e al dovuto. Perché faceva questo? Loro avevano donne e figliuoli e non volevano vederli morire di fame. Donna Matilde cercava di protestare, ma quello insisteva con un'ottusa tenacia. No, no, la padrona non negasse. Tutto sapevano. Loro in città con la radio e l'automobile, la figlia professore e la padrona vecchia al manicomio. Perché la padrona vecchia al manicomio? Era l'unica che andava per i casolari a vedere se loro non erano crepati e come crescevano i figlioli. Perché al manicomio? Perciò erano venuti a dire che loro dalla terra non se ne sarebbero andati. I figli in mezzo alla strada non li avrebbero messi e don Alfonso si ricordasse che i suoi padre e madre erano stati contadini. Ecco. Un sordo brontolio si levò dietro di lui. Una donna tendendo il pugno con occhi lucidi d'odio lanciò una maledizione. Matilde protestò che non era vero. Chi aveva detto questo? Doveva essere pazzo. E Nicola rise ironico. Pazzo da manicomio? Tutti i contadini ebbero uno sghignazzare cattivo. A noi non ci caccia. Che se no cacciamo noi a lui. Allora Anna si fece innanzi alla madre e andò in mezzo a loro. A me dovete credere. Io sono stata sempre tra voi nelle vostre case. È vero? Io vi dico che nessuno ha mai parlato di vendere la terra. Don Alfonso è partito per affari. Altri affari. Niente a che vedere con la tenuta. Non è vero che si rinchiude la nonna in manicomio. Non si vende la terra che ha dato da mangiare a voi e a noi. Don Alfonso verrà a parlarvi al ritorno. Nessuno toglie il pane ai vostri figlioli. I contadini volevano bene ad Anna. Invece la padrona giovane e certuni quasi non la conoscevano. Si guardarono l'uno con l'altro perplessi. Andiamo. Alcuni ripresero la via dei campi. Nicola aggiunse. Ce ne andiamo ma siamo pronti a tornare. Poi andò dietro agli altri nel cammino dei casolari. Anna non fece in tempo a trattenere la madre. Già questa era salita per la scaletta e si precipitava in camera della vecchia. La trovò presso la finestra che fingeva di recitare il rosario ma certo aveva seguito tutto quello che era venuto sull'aria. Questo? Questo avete fatto vostro figlio vero? Perché magari l'ammazzino quando ritorna no? Ma che siete voi una belva? Avete atteso che fossimo sole io e la figlia? E poi il rosario ci dite sopra vero? Ma c'è Dio. C'è Dio lassù. Mentre la vecchia si difendeva e diceva che lei non sapeva nulla. Che cosa era accaduto? Chi volevano ammazzare? Anna trascinò via la madre che in camera sua si accasciò in mezzo deliquio sul letto. La notte calò. Nuvole bianchicce nascondevano le stelle. L'afa umida toglieva il respiro. I cupi boati passavano nell'aria. Il temporale girava attorno senza scoppiare. Anna stava in camera sua, le braccia sul davanzale irritata dal tempo e dagli avvenimenti. La madre dopo aver bevuto una tazza di camomilla ormai dormiva e in camera della nonna dopo passi e rimestari adesso si era fatto silenzio. Anna guardava verso la casa di Mario dove nessun lume ardeva. Gli alberi pagliai le toglievano la vista della finestra di lui. A un tratto, nella tenebra grigia, le parve di vedere uno sprazzo, una macchia, una lingua di fuoco insorgere sul pagliaio. Non è possibile! Ma già la serpe di fuoco correva e fulminia si allargava nella notte. Allora a voce altissima gridò fuoco! Fuoco sui pagliai! Scese le scale a precipizio, aprì le stanze dove i servi dormivano sempre urlando fuoco! Fuoco! Entrò in cucina, staccò un secchio, altri ne prendevano i servi sopravenuti e uscendo sull'aia vide che il fuoco ardeva sul lato destro del pagliaio. Tutti correvano, nel buio urtavano contro le piante, scavalcavano i fossati. Fuoco! Fuoco! Dalla casa dei coloni gente accorreva e in un attimo dal ruscello al pagliaio si formò una catena di gente, chinata, che si passava i secchi da mano a mano e ne gettava l'acqua sul fuoco e svelta li rimandava. Scacciato dal basso del pagliaio, il fuoco adesso raggiungeva la cima, arrossandola, e lassù lingueggiava il cielo. Un fumo giallo e acre si dilatava a pennacchio nell'ombra. Anna si era accostata alla rete di ferro. Mario! Mario! Chiamava Mario! Ma egli già correva con altri uomini, portando due secchi. Scavalcarono la rete, Anna gli si fece vicina, gli gettò le mani sulle spalle. Mario! Aiutami Mario! Egli si staccò le braccia di lei dal collo, corse verso gli altri e si mise all'opera. Come un gigantesco ceppo, il pagliaio ardeva. Attorno i campi, gli alberi, la casa. Tutto ne era illuminato, quasi per festa. Adesso il fuoco serpeggiava anche sul campo più prossimo, che era coltivato a ricino. Scintille crepitavano. L'afa del cielo basso e il fumo toglievano il respiro. Anna passava i secchi e intanto chiedeva come è stato? Come è stato? Nessuno sapeva nulla. Tutti tacevano. Le schiene curve. Quelli che attingevano l'acqua avevano già i piedi nel guazzo formatosi lungo il ruscello. Il fuoco sul campo si era spento, ma un ciliegio infiammato dalle faville divampava. Come è stato? Come è stato? Domandava Anna. Ed un tratto, nella rossa luce dell'incendio, vide di contro a sé la nonna. A bocca aperta, la vecchia guardava le fiamme salire, balzare verso il cielo, minacciare di appiccarsi al pagliaio vicino. Guardava e teneva le mani sulle vesti, sollevandosele sui ginocchi con mossa nervosa. Allora di colpo Anna capì. Nonna! Che avete fatto, nonna? E il suo urlare era pieno di raccapriccio. La vecchia non l'udiva. Seguitava a fissare il fuoco con un sorriso di soddisfazione. Abbandonato il secchio in mano alla vicina, Anna corse verso la vecchia. La prese per il braccio, la scosse, siete stata voi, vero? La nonna la guardava, ebete. Anna scoppiò a piangere disperatamente. Che avete fatto, nonna? Adesso tutti i pagliai bruceranno e poi i campi e gli alberi e il raccolto. Avete capito? Tutto brucerà, tutto. La terra è finita. Come se soltanto allora la vecchia comprendesse la gravità di quel che stava accadendo, cominciò a urlare anche lei con le labbra che tremavano e si batteva il petto e si tirava i capelli grigi e fiacchi urlava. La terra! La terra! Poi volgendo le spalle all'incendio, prese a correre, a fuggire, traballando. Il fuoco assaliva il ciliegio. Si vedevano i suoi rami corsi da serpenti di fiamme. Le sue braccia stecchite si alzavano nell'ombra rossastra e fumante. Anna si avvicinò a Mario. Il ragazzo sudava, le mani irritate dal rapido passare dei cerchi. Mario! Mario! È stata la nonna! La nonna! Pensa! Brucerà tutto, è vero! Dì, Mario! Chino, passando sempre più lesto i secchi, Mario rispose angosciato. Ci si farà! Ci si farà! Il fumo e il calore prendevano alla gola. Gli uomini che si passavano i secchi cominciavano a tossire. Radrezzavano per un momento la schiena indolorita. Guardavano verso il pagliaio, ansiosi. Nella luce rovente dell'incendio i loro volti lucidi di sudore parevano di rame. E allora avvenne il miracolo. Prima, a gocciole rade e larghe, cadde la pioggia. Grida! S'alzarono qua e là. Piove! Piove! E i contadini levarono la faccia al cielo, ma senza rallentare l'opera. Anna si gettò in ginocchio accanto a Mario. Le palme stese a raccogliere l'acqua. San Nicola, fate la grazia. San Nicola! La pioggia infittiva. Cadeva a raffiche, sempre più furibonda. La fiamma schiaffeggiata s'abbassava. Si risollevava, vivace. Esausta ricadeva. Tutti gridavano come pazzi e seguitavano a gettare secchiate d'acqua sul pagliaio. Anna diceva a Mario. Guarda! Si spegne! A poco a poco le serpi di fuoco scivolavano di dosso al ciliegio. I contorni dell'albero divenivano violacei appena. Con una violenza rabbiosa, folate d'acqua investivano la campagna. Formavano pozze. Cominciavano ad apparire chiazze buie sul pagliaio. L'incendio resisteva, ma sempre più debolmente. Si diffondeva già nell'aria. Un odore di bruciaticcio. Le camicie degli uomini erano appiccicate alla pelle. Acqua e sudore. E loro seguitavano a gridare, a rovesciare i secchi sulle fiamme. Anna, con i capelli intrisi d'acqua, il viso colante e il vestito fradicio, ripeteva a se stessa. La terra è salva! La terra è salva! Poco dopo, sotto il formidabile acquazzone, il pagliaio si spense. Ma gli uomini, non convinti, correvano attorno. Gettavano ancora acqua. Forse il fuoco cova sotto. No, no! Tutto era nero e arso, spento. E la pioggia rallentava il ritmo. Proprio come un miracolo. Adesso quell'acquazzone di ultima estate rispettava la campagna. Tutti rimasero lì, in attesa, come se ad un tratto il fuoco dovesse divampare di nuovo. Zuppi, i secchi in mano, fissavano ancora il pagliaio, increduli. I contadini furono i primi a riprendere la strada dei casolari. Borbottavano tra loro, perché la pioggia avrebbe infracidato l'uva. Anna esausta si appoggiava a Mario, grazie, mormorando, grazie. Mario le mise un braccio attorno alle spalle e così si avviarono verso la casa, spesso volgendosi indietro. Pareva loro che le fiamme dovessero nuovamente elevarsi, come due ore prima. E stavolta indomabili, raggiungere i campi fino a quelli rasi dal taglio del gran turco. Erano stanchi, grondanti e ancora pioveva, ma piano, aventate. In casa, donna Matilde piangeva pensando che certo un giorno o l'altro la vecchia avrebbe messo a fuoco la casa. La nonna non c'era. Anna, Mario, i servi battevano i denti per l'umidità. Lo spavento provato aveva messo indosso a tutti un'inquietudine, un'agitazione nervosa. La nonna, Anna chiedeva, dove sarà la nonna? Uscirono fuori a cercarla con le lanterne, la chiamarono dall'aia, si spinsero dietro la casa, nell'orto, tesero l'orecchio in ascolto, ma nulla si udiva. I campi erano un pantano, i passi si schiavano nel fango e ancora pioveva. Scostavano le fratte di confine di dove l'acqua crollava improvvisamente. I servi gridavano, donna Antonia, donna Antonia! Le lanterne passavano come occhi su e giù per il fossato. Forse si è rifugiata nelle case dei coloni. Questi li accolsero duramente. Che c'è? Che altro brucia? No, no, non c'era donna Antonia! Rientrarono in casa sotto la pioggia, scoraggiati, si sedettero nell'atrio aspettando, sussultando ad ogni fruscio. Eccola, eccola! No, è sempre l'acqua o il vento. E poi, stanchi, alcuni si addormentarono lì, per terra. Anna, Mario e Matilde, in attesa, diritti sulle sedie. Così, tutta la notte. La trovarono all'alba, all'ultimo limite del podere, bocconi nel fossato. Emergeva la gonna nera e una mano bianca. Attorno, fragili arbusti strappati mostravano dove lei si era grappata per non cadere. Sull'erba melmosa si vedevano ancora le orme dei suoi passi. Tra i denti stretti erano fili d'erba e fango. Il settembre fu bellissimo. A sera, gente passava per le strade cantando. Dietro le finestre chiuse di casa Bortone, Anna, vestita di nero, studiò tutto il mese faticosamente. Si sentiva, da quel lutto, imprigionata nella propria camera. Le pareti sembravano stringersi attorno a lei, ma asseguitava a studiare. Quando uscì, fu per partire. Con Valentina, come era arrivata. Molta gente andò a salutarla. Dissero che era una buona nipote perché appariva afflitta e smagrita. Anche uno dei fratelli venne, quello zoppo, poiché la nipote partiva con la Bortone. C'era, nella stazioncina, una silenziosaria di tragedia. Quasi ancora tutti fossero sotto l'incubo della notte dell'incendio. Se il treno fosse arrivato in orario, tutto sarebbe stato semplice, ma il treno ritardò. Snervata dall'attesa, donna Matilde stringeva a sé la figlia. La chiamava dicendo parole sconnesse. Che tragedia! Che scandalo, figlia mia! Commossa e stordita, abbracciò anche Valentina. Mario, venuto all'ultimo, ebbe il tempo di avvicinarsi ad Anna, poiché donna Matilde si sentiva male e la gente si preoccupava di lei. Si ritrovarono soli e fu come quella sera al cancello. Mario la guardava. Dopo tante cose tristi, il suo sguardo fu, per Anna, la prima cosa serena. Restarono muti in quel ritrovamento e calmi, come se dovessero avere tanto tempo avanti a loro, non pochi attimi. E quando scampanò il segnale d'arrivo, affrettatamente Mario le disse sposeremo appena tu ritorni, vero Anna? Altre parole che lui diceva si perdettero nel rombo della locomotiva. Ella gli fece sì, sì, con la testa e poi vide braccia tendersi verso di lei, mani che la toccavano, bocche, baffi, accostarsi al suo viso, parole, lacrime di sua madre, addio, addio, sorrisi, poi il predellino, la valigia, c'è posto, sì, c'è posto, dov'è la valigia, dov'è la valigia, eccola, e già il treno riparte, lento. Non ci si accorge di partire. Un gruppo di gente saluta, mani, fazzoletti, chi li distingue più? Anche Mario è là, in mezzo, e non si distingue. Passa il berretto del capo stazione, passano le aiuole, la fontanella, la locomotiva, svolta, e tutto è scomparso. Nello scompartimento vuoto, Anna e Valentina, zitte, scosse dal movimento del treno. Sopra la testa di Valentina c'era il Duomo di Orvieto, sopra quello di Anna l'Arena di Verona, appesa alla reticella, una sorridente bocca di donna dondolava, pubblicità di un dentifricio, odore di carbone, insetti che come pazzi si schiacciavano contro i vetri del finestrino, tramortiti dal crepuscolo. Così rimasero senza parlare per molto tempo. Anna stava a occhi chiusi, pensava, pensava. Allora Valentina le chiese con intenzione, ti dispiace, eh, di essere partita? Ma lei calma, scrollò la testa. Perché? Disse. Ritorno.